Ciao a tutti e a tutti! Benvenuti in un nuovo video! Oggi è la prima volta che Iris esce al parco! Comunque vi voglio sempre più bene perché vi iscrivete al canale e attivate sempre la campanellina, questa famiglia si sta sempre allargando. Come vedete dietro di me c'è un bel tenetto che ci saranno cose per me e cose per Iris che adesso vi farò vedere. Allora, apro lo zaino e ve lo faccio vedere. C'è? Ci sono? Stabiettine per cani? Così, non so se si vede. Poi ci sta una merendina per me perché se mi viene fame e poi una bottiglietta d'acqua e adesso gli metteremo il cappottino e usciremo insieme. Ecco qui il cappottino per Iris! Io non lo posso mettere perché Iris se lo vede se lo mangia tutto e perciò non lo metterà con l'aiuto di mia mamma. Ah, e poi c'è un minzaio, ovviamente rosa, l'orcizzino e l'orcizzino insieme al cappottino. Ecco qui l'orcizzino e l'orcizzino che abbiamo messo il cappottino rosa e il minzaio. Adesso ci incontreremo al parco. Ecco l'orcizzino e l'orcizzino, siamo arrivati al parco e qui Iris che mangia l'erba. Iris, resmetti. Mangiare l'erba? Ma guarda com'è sparta! Gnani! Una che mi ha? Una pigna! Guardate! Aspettate! Guardate! Sono pigna, sono da finta! È vero! Gnani, smetti di mangiare! Gnani, smetti di mangiare! Iris che mangia l'erba come la mucca. Cosa fa? Ah già! Ah già! Il ristorante si vuole fargli vedere perché si vergogna oppure vuole mangiare. È molto bello stare, avere un animale, accompagnarlo al parco, giocare con lui, soprattutto quando sei figlia unica. Sì! Ed è molto bello! Poi era una bella giornata e la dovevamo far riuscire. Comunque si mette così il coltre, si mette così. E poi ci giri. Qui. Iris nel frattempo si sta bevendo. Mi sembra candoli. Erba. Allora, dolcetti e dolcettini, i due ne avete degli animaletti. Così li possiamo pure salutare in un video. I vostri animali e voi. Spero che questi video vi stanno piacendo. Un po' di Iris. Se vi piacciono, li farò ancora con Iris. Ok, dolcettini, dolcettini. Meno male che mi sono portata questi tre fattori timbevuti per i cagnolini, perché è davvero sporca. Adesso lo volevo fare ovviamente insieme a voi. Adesso dovrei aprirlo. Ma non capisco che si apre. Aspettatelo. Dolcettini e dolcettini. Ecco. Ecco. Ecco fatto l'apertura. E prendiamo un fassoletto. Da. Perché gli dobbiamo pulire un po' la faccia, perché è tutta sporca. Iris. Guarda. Gli puliamo la faccia. Ecco. Perché si mangiava l'erba. Vieni qua Iris. Bravissima. Vieni con la ferra. No. Ecco fatto, l'abbiamo un po' pulita. Almeno è un po' più pulita di prima. E adesso questo lo buttiamo nella spazzatura. Ecco qui dolcettini e dolcettini. Dopo il tempo che Iris ci fa una passeggiata con i miei genitori. Io mi volevo fare... Avevo visto dei giochi. E mi sono messa un po' a giocare. Ovviamente lo volevo fare anche con voi. Qui c'è il pontetto abballante. Che adesso faremo. Se volete possiamo andare anche a provare un altro gioco. Ecco qua dolcettini e dolcettini. È la prima volta che Iris ho fatto una giostra e andiamo insieme. Inventura! 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 Però io... Io dico se ti piace! Da meno bambina! Sono diventata mamma! Sì! Inventura! 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 Sì! Sì! Ah! La mia nuova bambina di villa! Vi piace? Sì, la dobbiamo riuscita. Sì! Allora, vuoi prendere il tuo... Ok, te la faccio io va bene. Spero, dolcettini e dolcettini che questo video vi sia piaciuto, una giornata che mi rissa al parco, voi però volevo salutare anche due dolcettini, una da Vika e una da Sandra, vi voglio bene, baci, dolci, dolci!